Ciao! Come state? Spero tutto bene io oggi sto molto bene, è il mio compleanno e ci tenevo a fare questo brevissimo video solo per condividere con voi quella che è la gioia che provo nel mio compleanno questo semplicemente perché il compleanno è un giorno molto speciale per alcuni non ha molta rilevanza, magari neanche lo festeggio ma per altri come me il compleanno in realtà è qualcosa di magico e questo semplicemente perché mi fa rendere conto che è passato un anno 365 giorni per il compleanno precedente mi fa rendere conto che è una fortuna quella di poter vivere sembra una banalità, sembra una cosa strana da dire ma quando ci si rende veramente conto che è una fortuna proprio vivere questa vita che è una fortuna alzarsi, stare bene, stare in salute, avere la famiglia, avere gli amici, avere una persona che ti ama è una fortuna, è una fortuna grande e tante volte viene data per scontata quando scontata non lo è e quindi diciamo che durante il mio compleanno io sono una persona molto riflessiva quindi magari c'è quel momento in cui sono contenta penso soltanto alla piccola festeggiota che organizzo e invece poi ci sono altri momenti in cui sono molto riflessiva e penso molto a queste cose e penso veramente alla grande fortuna che ho e che hanno tanti di noi e a volte magari non ce ne rendiamo conto perché siamo presi da altre mille cose intorno anche ai problemi però avere dei problemi nella vita non vuol dire non avere la fortuna comunque di viverla e penso penso purtroppo anche a volte a un periodo bruttissimo che ha passato della mia vita in cui ho desiderato veramente porre fine a tutto e se l'avessi fatto se l'avessi fatto non sarei qui a parlare con voi a volervi bene a cercare di darvi tutto quello che posso portando comunque rispetto al mio tempo e alla mia vita di fuori di Youtube se l'avessi fatto non sarei a fidanza con un ragazzo meraviglioso se l'avessi fatto non festeggerei questa sera con la mia famiglia se l'avessi fatto non avrei potuto scoprire la bellezza della vita e il fatto che ogni giorno possiamo migliorarci e il fatto che le cose brutte passano e che nessuno ha il potere di far smettere il tuo cuore di battere ecco questa cosa piccola ma grande volevo condividerla con voi nel giorno del mio compleanno impariamo a sentirci più fortunati e a vivere giorno per giorno perché il domani e l'oggi non sono mai scontati quindi spero di avervi un pochino illuminato questa piccola giornata e niente questa sera festeggerò con la mia famiglia e domenica sera invece con gli amici che non ho potuto festeggiarci oggi perché oggi è giovedì e tanti amici lavorano e tutto il resto quindi sarebbe stato un po' complicato quindi domenica contento tutti ecco e niente spero 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 di vedervi super presto e vi mando un bacio ciao